Grazie, a secondo la gratificazione vedervi numerosi, grazie, aiuta l'adrenalina. Ecco Peggy davanti al murale di Pollock accanto a lui stesso, Peggy nella sua vita considerava il lanciare la carriera di Pollock il più grande raggiungimento della sua vita e quindi era giusto cominciare con questa immagine. E poi in effetti quel quadro dietro era il quadro più grande che Pollock ha mai realizzato e quindi è un'opera chiave nello sviluppo dell'arte americana o meglio l'espressionismo al strato americano negli anni 40. Comunque ho tante immagini e quindi devo scorrere un po'. Peggy era della famiglia Guggenheim appunto, ecco in alto una famosa fotografia di tutti i fratelli e figli di Mea al centro con la barba, Solomon con i baffi seduto alla sua sinistra. E quindi identifichiamo Peggy come figlia di Benjamin, quello più a sinistra, Benjamin che notoriamente muore sul Titanic. Infatti ho una piccola idea che voglio dare al mio, ha detto alle comunicazioni che il 12 aprile quest'anno mettiamo nella necrologia di Venezia, ricordiamo cento anni fa esattamente la morte del papà di Peggy, metterò una fotografia e tutti saranno sorpresi a capire chi è questo Benjamin Guggenheim e perché nel gazettino di Venezia. Il Guggenheim, svizzeri, ebrei, svizzeri, tedeschi, viaggiano Mea e suo papà Simon nel 1947, incredibilmente poveri, però con grande ingegnosità diventano miliardari. Già negli anni 70 dell'Ottocento, molto prima del loro primo acquisto di due miniere nel 1979 e con le miniere e poi con il raffinamento dei metalli, innanzitutto rame, diventano incredibilmente ricchi. Infatti erano l'invidia di tutte le altre famiglie tedesche e ebrei a New York perché non solo più ricche ma forse più ricche in America, più ricche, qualcuno ha detto, addirittura nel mondo. Nel 1901 comprano l'American Smelting and Refining Company, un dettaglio della storia del capitalismo americano ma effettivamente diventano, acquistano un monopolio di tutti i metalli in America. Nel 1906 l'Alaska Syndicate apre la strada per minare un'intera montagna a Kennecott, un'intera montagna di rame e poi nel 1910 il più grande bonanza di tutti, il Chuqui Kamata Mine di Cile. E quindi chi ha stimato che nel 1914, anno importante, visto che la guerra stava per scoppiare, erano proprietari del 75% o 80% di tutte le risorse conosciute di rame, argento e piombo. Peggy apparteneva a questa famiglia, pur nel 1901 il Benjamin, il secondo forse più giovane dei fratelli, esce dalla famiglia, amava Europa, ha cominciato a fare qualche business per sé, ha costruito un elevatore per la Torre Eiffel e quando muore sul Titanic muore con le sue finanze in disordine, addirittura Peggy non aveva capito la mamma innanzitutto quanto erano indebitati e quindi vale la pena sapere che Peggy non era ricca come i suoi cugini e i zii, ha dovuto fare qualche sacrificio durante la sua vita quando comincia a dedicarsi all'arte. Quindi metto lì l'accenno all'Europa, Peggy e sua sorella ritrattato all'inizio del secolo dal ritrattista ufficiale dell'aristocrazia mitoleuropea di Bismarck addirittura, uno strano incrocio di due storie molto diverse e poi la sinagoga che lei frequentava specialmente dopo la morte del papà, diceva che andava spesso, era molto religiosa. Però quello che volevo darvi con questo diapositivo è l'idea di una ricchissima, privilegiatissima gioventù in un ambiente sociale molto chiuso, quelli degli ebrei tedeschi, infatti suo nonno, padre della mamma, James Seligman, era dei ricchissimi banchieri, di Seligman, infatti solo grazie a quello le finanze della famiglia erano in qualche modo risanate dopo la morte di Benjamin. Quindi, quando nel 1920, lei ormai maggiorenne, nasce nel 98, nel 1920 fa volontaria a questa libreria. Ed è stata una strana intuizione sua, era in un certo senso ovvio, due suoi cugini, Harold Loeb e Marjorie Content, erano i proprietari, quindi era sempre in famiglia. Però questo Sunwise Turn è un elemento fascinante nella cultura dell'avanguardia a New York dopo la Grande Guerra. Lì, per esempio, frequentava, forse era azionista Margaret Anderson, quello che ha pubblicato in una rivista, The Little Review, Ulisse di James Joyce, è finito in galera per questo, e infatti in un divertente momento si avvicina a Peggy chiedendo soldi per il Little Review. Ha detto che se uno vuole rinviare, vuole evitare guerre nel futuro, dovrebbe dare soldi alla cultura. Peggy scherzosamente dice nell'autobiografia, Dandola 500 dollari, pensavo di aver rinviato la prossima guerra mondiale di almeno cinque anni. Quindi aveva questa ingenuità, generosità, e poi questa, la cultura per lei era una specie di calamità. Dico questo per un amico, qui Gabriele sa benissimo che i vorticisti hanno avuto un momento nel 1917 con una mostra a New York, al Penguin Club, organizzato dal grande collezionista, l'avvocato John Quinn. John Quinn, la mostra non era un grande successo, e sono rimaste diverse cose di questi inglesi dell'avanguardia, questi cubisti, futuristi inglesi, i vorticisti, certe cose sono rimaste non vendute. Dove sono stati spediti dopo per essere venduti o svenduti? Il Sunwise Turn, lì vendevano riproduzioni di opere post-impressionisti, facevano di tutto. Lì Peggy ha conosciuto Helen e Leon Fleischman. Helen e Leon Fleischman, strana coppia, Helen finisce a sposare il figlio di James Joyce, il matrimonio allora era cosiddetto aperta, quindi tutto altro che molto diverso da quello di cui Peggy era abituata, aperta nel senso che ognuno faceva l'amore con chiunque ed erano d'accordo fra di loro. Helen e Leon Fleischman introducono Peggy a Lawrence Vale. Per chiudere sul Sunwise Turn, Peggy descrive questo come un momento proprio di epifania, di sveglio. Dice che la gente che ha conosciuto in quell'ambiente erano per lei così vivi, così reali, così umani, che evidentemente significa che tutta la sua omiglia e la sua società prima erano morti, irreali e poco umani. Cioè aveva questo strano contrasto, si sentiva a casa con questa gente dell'avanguardia, diceva che i loro valori erano totalmente diversi dai miei. Quindi la sua sveglia alla vita nell'avanguardia accade al Sunwise Turn. Lì conosce per esempio il suo primo quadro moderno, vede dalla Galleria Alfred Stiglitz un'opera di Giorgio O'Keefe. E lì c'era Lawrence Vale. Lawrence Vale non era sempre a New York. Era un ex patriota, viveva con il papà a Parigi e, inciso, il papà Eugene Vale esponeva alle prime biennali di Venezia. Viveva a Parigi ma andava sempre a Venezia per dipingere nell'estate o per presenziarsi alle biennali. Quindi Lawrence Vale conosceva Venezia fino in fondo, like the back of his hand, come dicono in inglese, e negli anni venti è stata una visita lunga a Venezia con Lawrence Vale, che Peggy sposa nel 1922, che probabilmente ha convinto Peggy poi, dopo la guerra, di prendere la sua residenza lì. Tutti mi chiedono perché Venezia e questa è una possibile spiegazione. Il fatto che Man Ray, la fotografa, nel 1925, indica quanto era in qualche modo inserito, grazie a Lawrence Vale in tutta l'avanguardia letteraria e artistica a Parigi negli anni venti. Peggy chiamava Lawrence Vale il re di Bohemia. Si vede che è un uomo molto bello, ma anche molto temperamentale. Beveva moltissimo, era abbastanza aggressivo, però Peggy l'ha amato e brevemente erano, mi sembra, 4-5 anni, marito-moglie. E poi sono rimasti amici per il resto della loro vita. Ricordo all'ottentesimo compleanno di Peggy. Ho sentito lei dire al suo compagno della cena, un regista famoso, Joseph Losey, e diceva, non so in quale contesto, sono d'accordo, Joe, il matrimonio è molto meglio dopo il divorzio. Quindi riferiva sicuramente a Lawrence Vale, sono rimasti amici fino alla morte di Vale nei fini anni 60. Però io salto adesso 20 anni che Peggy ha vissuto in Europa. Primo Lawrence Vale, poi una sequenza di amanti, tutti uomini più o meno intelligenti. E poi nel giorno di Bastiglia, nel 1941, arriva alla guardia assieme a Max Ernst, che sarà fra pochi mesi anche il secondo marito. Eccoli lì. Quindi inizia l'episodio più importante nella vita di Peggy, quello a New York durante la seconda guerra mondiale. Non era all'inizio deciso che New York doveva essere sede di suo progetto. Aveva un progetto. Nel 1939, dopo un anno di gestire una galleria d'arte contemporanea a Londra, decide di aprire un museo a Londra. E quindi arriva a New York, fugge da Europa, afflitto dalla guerra, arriva a New York con una collezione e con un progetto di creare un museo, o meglio quello che lei chiamava un centro d'arte, Art Center. Ha viaggiato da costa a costa, ha visitato la sorella San Diego, Santa Monica, scusa. Ha conosciuto a San Francisco Grace McCann Morley. Ha addirittura fatto un'offerta su un grande palazzo di 60 stanze vicino a Malibu. Però in qualche modo era irresistibile l'attrazione di New York e torna lì nel settembre 1941 a prendere lì la sua residenza. Allora era più preoccupata per il suo catalogo, che aveva già iniziato a Grenoble e Parigi prima. Aveva iniziato il catalogo delle opere che stava collezionando. Infatti per tutto il 1941 e metà il 1942 continuava ad acquistare opere d'arte per la sua collezione. Ed è interessante, è indicativo che diversi dei capolavori che sono oggi a Venezia, acquistati non in Europa ma a New York. Parlo di Del Chirico, di Miró, di Kandinsky, di Picasso, tutti comprati a New York. Quindi voglio dare con questo il segno che New York era un luogo molto sofisticato in termini del mercato d'arte, dell'arte moderna europea. E non arriva in un'intera vergine di ignoranza rispetto all'arte dell'avanguardia europea. Il catalogo quindi lo fa. André Breton l'aveva preso in mano perché lui continuava a definirlo, lui parlava solo francese, catastrofic. Peggy era d'accordo che non deve essere un testo noioso. Chiede a Max Ernst di fare questo disegno proprio per la copertina. Grazie a André Breton diventa più una storia dell'arte moderna. Testi scritti da lui. Il primo testo sul surrealismo in inglese che definiva l'automatismo psichico, fatto molto importante per gli artisti americani, che potevano finalmente leggere nella propria lingua la definizione di questo concetto centrale al surrealismo. Ma anche Mondrian scrive, anche Jean Arp scrive, prende testi dei testi dei futuristi e crea una specie di Vadimacom dell'arte contemporanea. Gli artisti rappresentati con fotografie dei loro occhi e così via. Il catalogo si chiamava Art of the Century appunto e diventa questo poi il nome del suo Art Center, quello che noi chiamiamo ormai Museo Galleria di Peggy, qui sul West 57th Street, New York, a destra com'era, con un grande negozio di abbigliamento di moda, di abbigliamento femminile. Ma oggi giorno c'è ancora questo edificio e lei prende in affitto l'ultimo piano, quei finestre quadrate sopra le due finestre con l'arco. E in vita, sul suggerimento di, forse di Jimmy Ernst, Jimmy Ernst è il figlio di Max Ernst, figlio del primo matrimonio, che era molto amico di Peggy e Peggy lo nomina subito a sua secretaria quando arriva a New York per il catalogo e così via. E Jimmy Ernst conosceva benissimo Frederick Kisler, ma anche altri nel suo giro, mi sembra in questo periodo, Marcel Duchamp, amico di Peggy dagli anni 20, era inquilino di Kisler a Greenwich Village. Quindi lei scrive senza sapere probabilmente proprio chi era Frederick Kisler, dice nel febbraio 1942, caro Kisler ho bisogno del tuo aiuto. E così, devo accennare questo bellissimo disegno, fra l'altro, alla Angre di Gorky di Kisler. Era un austriaco arrivato a New York negli anni 20 e Peggy, commissionando a lui l'allestimento della sua galleria, crea per lui un'opportunità che aveva sognato per quasi 20 anni dagli anni di Vienna nei primi anni 20. Allora, queste dipositive non sono le gallerie di Peggy, lo dicono le didascalie, però indicano che allestimenti azzardati erano di moda a New York in questo periodo. Giù, per esempio, il Museum of Non Objective Painting, in inglese, era il museo dello zio Solomon, non tanto lontano, East 54th Street. E si vede, potrebbe sembrare normale adesso, ma se uno guarda negli anni 40 tappeti muro a muro, luci fluorescenti e questi quadri, in questo caso di Rudolf Bauer, l'amante della direttrice della galleria, tutti lo sanno, è scritto dappertutto, strani cornici un po' a salsicciotti appesi a livello del pavimento e così via. E in più, apparentemente, c'era non solo la musica di Bach e Mozart nelle gallerie, ma anche l'odore di incenso creando un effetto tempio per l'arte astratta, quindi un complete environment, in qualche modo, un luogo adatto per le opere esposte, l'arte spirituale. Mentre Duchamp, e si vede in alto destro Duchamp a casa di Peggy e di quella casa a Hale House ne parlo fra poco. Duchamp aveva progettato invece per vivacizzare una mostra per gli israelisti immigrati a New York in quel momento. quello che vedete là, diversi chilometri, nessuno sa quanti, tutti i libri, sono in disaccordo su quanti chilometri di spago che girano per la sala rendendo una mostra apparentemente noioso, molto curioso, si può spiegarlo in mille modi, in qualche modo era inteso come una ragnatela surrealista per vedere le opere, però quella mostra che apre, mi sembra, sei giorni prima della Galleria di Peggy era ovviamente molto vivido nella mentalità di Peggy, Peggy si sentiva rivale, addirittura un po' deluso che Kisler era in ritardo e ha aperto la sua galleria dopo la mostra dei First Papers of Surrealism. First Papers riferisce fra l'altro alle carte che un immigrato a Ellis Island da New York deve riempire prima di essere accettato prima di avere un visto per New York. Quindi cosa fa Kisler? Crea l'ambiente per la collezione di Peggy. In questo caso pavimento blu, muri di tela blu, quadri appesi su cordone tesi fra soffitto e pavimento sculture messe un po' precariamente su quelle piccole piattaforme, un ambiente assieme a quelle strane mobili che in cui parte Kisler stesso ha costruito, un ambiente che doveva essere coerente per le opere d'arte esposte. Cosa posso dire? Togliendo le cornici, l'idea era di inserire la realtà fictizia rappresentata nelle opere più o meno astratte, c'è cubismo, c'è Kandinsky, c'è l'astrazione vera, costruttivismo e così via, però l'astrazione in qualche modo si trova a casa in un ambiente senza muri, le opere appesi in uno spazio non definito, in qualche modo una fusione fra il nostro spazio che noi respiriamo e quell'altro spazio di solito definito dalla soglia che è la cornice che è quella dell'opera d'arte e questa è la sua idea. Crea un diverso spazio per l'altro filo, abbiamo visto il cubismo e l'astrazione, questo invece è l'arte del surrealismo in uno spazio con muri curvi e le opere sempre proiettate dal muro, erano tutti abituati forse lo stiamo ancora oggi di vedere come qui opere appesi su ganci al muro invece qui no, invadono lo spazio disegni di chistola addirittura mostrano una specie di proiezione come un braccio che con la mano tiene l'opera e entra nel nostro spazio il soffitto è ribassato e probabilmente questo è consono concerti con architetti del filo surrealista negli anni 30 che chiedevano una cosiddetta architettura interuterina non so se quella è una parola italiana se sono riuscito a spiegarmi all'inizio non sapevo cosa significava poi ho capito comunque inserisce l'avviseratore dentro il proprio corpo il fatto che le luci si spegnevano e si accendevano in modo imprevedibile dava questo senso di un polso una fluttuazione dello spazio era molto curioso in qualche modo anche terrificante in quanto il nastro di un treno espresso ogni tanto partiva come fosse un treno entrando nella galleria cioè terrore disorientamento un spazio perfetto per artiste surrealista e questa differenza che lei faceva fra surrealismo e astrazione era per lei paradigmatico quando era l'amante nel 38 di Yves Tonghi Tonghi ha regalato a lei piccoli orecchini ha avuto orecchini da un non amante sicuramente Alexander Kolder ma la leggenda è questa che all'inaugurazione della sua galleria 20 ottobre 1942 portava un orecchino di ciascuno un orecchino di Tonghi per il surrealismo l'altro di Kolder per la strazione per dimostrare la sua impazialità fra questi due movimenti allora mi rendo conto inciso abbiamo appena comprato dagli eredi questi orecchini e sono quelli di Tonghi sono esposti a Venezia quelli di Kolder saranno esposti domani a Vercelli in una mostra dedicata a Kolder e altri nella città di Vercelli sono molto contento che l'anno scorso abbiamo acquisito quegli orecchini velocemente un terzo spazio in questo progetto di Kisla la sala cinetica qui si gira la ruota per vedere le riproduzioni delle opere di Duchamp che c'è un tentativo di capire come a destra le riproduzioni bidimensionali evidentemente perché invece l'oggetto la boîte en valise di Duchamp aveva anche le riproduzioni delle sue sculturine vedi quell'oggetto bianco non voglio sbagliare il suo nome quindi Peggy molto amico di Duchamp ha finanziato l'arrivo in America di tutti i materiali per realizzare queste boîte en valise il valise è di Louis Vuitton è scritto davanti e questo è il numero uno dell'edizione deluxe di questo boîte en valise tutto questo dà l'impressione che Peggy è l'arte europea dell'avanguardia è un tutt'uno cioè finora non ho parlato di arte americana in un certo senso l'arrivo di Peggy e della sua collezione a New York e di tutti gli artisti emigrati da Europa che hanno trovato rifugio a New York era un disastro per i pittori americani perché tutti i collezionisti e i galleristi hanno girato anche i musei hanno dirottato la loro attenzione su questi artisti europei lasciando assolutamente a secco i giovani artisti americani poveri spesso ubriachi cioè proprio erano in grandi difficoltà specialmente dopo la chiusura del Federal Art Project il progetto di Roosevelt di mettere al lavoro tutti gli artisti che chiude mi sembra nel 1942 più o meno The Daylight Gallery è l'unico posto dove c'erano le finestre sul 57esima strada e lì faceva Peggy le sue mostre temporanee suo consulente suo commercialista Bernard Rice molto noto in altri contesti artistici Bernard Rice dice a lei se vuoi finanziare la galleria continua a fare le sue mostre commerciali opere in vendita e questo è fondamentale perché da Peggy l'opportunità di esporre prima i suoi amici europei e poi come vedremo gli americani quindi la parte ben illuminata davanti in questa ricostruzione digitale del Art of the Century lì si immagina non abbiamo documentazione fotografica il primo personale di Jackson Pollock nel 1943 novembre ma dietro vede la sala blu per astrazione la sala curva per surrealismo e poi un po' inserito negli spazi che rimangono questi diversi modi strani quasi da Lunar Park di esporre certe opere d'arte gli spazi cinetici quindi Peggy apre questa galleria diventa subito il posto più stimolante per l'arte contemporanea a New York nel frattempo aveva cenato questo Hale House Peggy affitta una casa lì vive con Jimmy Ernst e suo nuovo marito Max Ernst e quella fotografia di destra presa proprio a Hale House vi dà un'idea del suo ambiente europeo infatti questa casa diventa un po' il fulcro di questi artisti emigrati a New York diventa il luogo dove tutti si conoscono dove c'erano feste qualche volta assolutamente da ricordare o dimenticare Jimmy Ernst scrive nella sua autobiografia che è la prima housewarming party Charles Henry Ford comincia a fare pugili con Nicholas Callas Charles Henry Ford era direttore della rivista surrealista www e era talmente caotico che sangue comincia a spargersi qua e là e lui è dovuto spostare delle opere per evitare che Kandinsky per esempio acquisisse un uovo rosso che non aveva prima quindi cercate di immaginare un ambiente assolutamente dell'avanguardia con Peggy grande padrone di casa al centro di tutto questo Hale House però Hale House non poteva essere il museo appunto e doveva prendere questo altro indirizzo al 57th Street allora arriviamo un po' all'arte americana Peggy ha conosciuto Howard Puzzle già negli anni 30 Howard Puzzle un personaggio pressoché dimenticato anche dai libri di storia dell'arte esponeva precocemente l'arte surrealista europea in California negli anni 30 conosce gli Ahrensberg grandi collezionisti a Los Angeles va a Parigi nel 38 conosce Peggy aiuta Peggy a acquistare le sue opere nei primi giorni nei primi mesi del suo collezionismo e quando Peggy torna a New York trova già lì Howard Puzzle che assieme a Gordon Onslow Ford aveva già cominciato a promuovere l'arte dell'avanguardia europea a New York ma la cosa interessante è che Puzzle a questo punto rinuncia al passato cioè diventa stufo di tutti quelli Miro Kandinsky Picasso Dalì eccetera e comincia ad interessarsi nell'arte dei giovani l'arte del futuro l'altro di positiva è lì solo perché è l'unico altro ritratto che riesco a trovare di Howard Puzzle il disegno di Selega e la figura a destra in quel quadro dipinto da Max Ernst probabilmente quando visitava la sorella di Peggy a Santa Monica nel 41 quella figura a destra secondo Virginia Deutsch che forse qualcuno conosce Virginia Deutsch era la prima moglie di Piero Dorazio e secondo lei anche quella figura lì è Howard Puzzle Howard Puzzle quindi è lui un po' l'intermediario fra Peggy ricchissima alta società aristocratica quasi che con giovani americani come dico potete immaginare Pollock magari avete visto il film Pollock cercate di immaginare questi due mondi ci voleva un ponte qualcuno che mette insieme queste due realtà ed era Howard Puzzle ma c'era anche James Johnson Sweeney Sweeney un irlandese era diventa verso il 41 mi sembra un curatore forse direttore a MoMA a New York nel 51 diventa il secondo direttore del Guggenheim di New York è un grande personaggio a cui manca e mi dispiace è una vera biografia e diventa molto amico di Peggy e anche lui conosce Pollock e cerca di convincere Peggy del suo talento siamo nel 1943 quel disegnino fra l'altro di Puzzle un piccolo inedito è stato usato dal regista del film di Pollock perché non c'è nessun altro ritratto di lui e solo con quello sono riusciti a identificare che tipo era Howard Puzzle che figura nel film di Pollock quindi Peggy con amici a New York comincia a pensare dell'arte americana Puzzle la convince di invitare Pollock a offrire un collage costringe lui di fare un collage che l'ho fatto una volta sola l'ho fatto con molto disprezzo l'opera non esiste più apparentemente però la prima volta che figura nella galleria di Peggy era una mostra di collage la prima mostra mai fatta in America di questa tecnica avanguardista poi compare un'altra volta poi c'era un salone con una giuria per maggio 1943 a cui Peggy è costretto da Puzzle a lasciare sottomettere alla giuria mi sembra una o almeno forse due opere Jackson Pollock e una di questi era la figura stenografica in alto oggi a MoMA nella giuria ecco sempre il giro di Peggy era centrale all'avanguardia c'era l'amico Mondrian che è andato a New York a fine della guerra scusa all'inizio della guerra ha finito i suoi anni a New York morì nel 1944 ed era un giurato e secondo la simpatica biografia che ho già nominato l'autobiografia di Jimmy Ernst si chiama A Not So Still Life era Mondrian a convincere Peggy già sotto pressione da Matta da Puzzle e da Sweeney del grande talento di Pollock si domanda perché perché una pittura così diversa da quella di Mondrian è inconcepibile ci sono diverse teorie ma il fatto è che Peggy è sempre pronta ad ascoltare gli uomini più intelligenti di cui l'intelligenza lei ammirava molto finalmente è spinto a dire va bene Pollock sarà nella mostra addirittura lei presenta Pollock agli altri giurati quando arrivano Mondrian è il primo dicendo venite a vedere un'opera di un giovane genio Jackson Pollock e così parte siamo nel primavera del 1943 Pollock aveva appena preso un lavoro al Solomon Guggenheim Museum dove la sua opera era assolutamente non riconosciuta da Hilary Bay dalla prima direttrice del Guggenheim e lui è ben dietro nel luglio 1943 a liberarsi dall'eccesione di lavorare con uno stipendio mensile l'unico del genere a New York che Peggy ha offerto un contratto mensilmente veniva pagato in ritorno della proprietà di una certa quantità di opere sue che lei poi vendeva questo invece è il murale che mi ha visto sulla prima diapositiva lei aveva ho dimenticato di dire che la sua svolta verso l'arte americana coincide con il momento in cui Max Ernst la lascia va a vivere con Dorothea Tanning morta quando un mese fa e simultaneamente sua amata segretaria è il figlio di Max Jimmy Ernst anche lui lascia per andare a gestire una propria galleria non per antipatia ma proprio perché aveva una propria attività da gallerista e quel momento nel 43 Puzzle diventa segretario della galleria e Peggy si lascia influenzare un po' da Matta che si stava candidando il pittore Sebastian Matta che muore fuori Roma mi sembra Sebastian Matta che si candidava allora di essere il nuovo guida il nuovo capo spirituale intellettuale dei surrealisti a New York di un gruppo di surrealisti americani sostituendosi per Andre Breton pure a New York ma che non parlava nessuna lingua se non francese e che era antipatico a tutti quindi Matta aveva questa idea di diventare il nuovo capo dell'avanguardia e lui promuoveva attività surrealista come l'automatismo con i giovani americani e anche lui ha avuto il suo ruolo a convincere i peghi di cominciare a guardare i giovani americani ecco la leggenda è che Pollock ha avuto grandi difficoltà eccolo in silhouette in alto grandi difficoltà a dipingere questa enorme tela era spaventoso e la leggenda è che dopo settimane di inattività manda via addirittura la moglie lì alla campagna sperando di sentirsi più libero invece quando lei torna ancora niente è fatto e la leggenda è che durante una notte chiassosa lui in tre o quattro ore dipinge tutto non è proprio così però quello è l'inizio o fa parte di un mito attorno a Jackson Pollock e questo murale fa parte di quello più grande opera è una specie di fregio di figure nere quindi è un misto fra Picasso quando si vedono queste linee nere c'è sempre il cubismo alle spalle perché dà struttura dà forza alla composizione ma anche presumibilmente un'attenzione all'arte primitiva specialmente all'arte degli indiani l'influenza della psicoanalisi di Jung era molto importante per questi giovani artisti americani Pollock nel suo caso aveva era sotto cura dal 1937 in poi con un psicoanalista di persuasione Jungiana e quindi l'idea dell'arte primitiva mista con tecniche o strutture moderniste c'è in questo quadro forse più importante però è un quadro che in questa idea di realizzare in poco tempo in uno stato quasi di comunque di frenesia ma forse di epnosi non è proprio epnosi ma di ossessione di ore e ore in cui quasi è fuori di sé a dipingere questo è di nuovo la leggenda di Pollock ma in quanto diventa la sua tecnica quando quattro anni dopo 47 comincia a dipendere le sue opere più famose quelle tecniche della gocciola e Peggy rende possibile questo chissà perché ha spostato a casa 152 150 5 del 61esma strada sono andato in cerca della casa l'altro giorno e non c'è più quindi è difficile rintracciare però questo era poi l'ingresso e forse le difficoltà di Pollock di dipingere questa enorme tela era anche l'idea che perché dedicarsi anima e corpo ad un grande quadro che è pieno di miti del spirito del collective unconscious della persuasione jungiana per un ingresso lui aveva forse questo senso di sminuire il suo talent perché deve fare questo grande gesto per una donna di società o chi sia pure l'ha fatto entro l'inaugurazione della sua prima personale novembre 43 presso la galleria di Peggy allora entri un po' in merito l'importanza di Peggy per l'arte americana ha due aspetti in questo momento da una parte c'è la presenza della sua collezione in un ambiente molto stimolante appunto quello di Frederick Kisler dall'altro c'è il suo mecenetismo il fatto che offriva le prime mostre personali e non era solo Pollock posso nominare Motherwell Basiotis Clifford Still tutti quanti presenti nella mostra qui in questo caso vediamo un'opera in mostra che normalmente è considerato influenzato da Picasso con questo quadro che non è di Peggy è di una cugina o qualcuno che ha voluto donare il Museum of Modern Art ma per questo ragazza ha lo specchio sembra quando entra nel Museum of Modern Art nel 1938 sembra che abbia avuto grandi influenze su tutti i giovani artisti americani e indica il fatto che pur essendo a New York tanti artisti europei quelli che hanno influenzato di più la scena americana negli anni 40 sono rimasti in Europa intendo Picasso Miró Clay e Kandinsky tutti rimasti in Europa di quegli artisti c'erano grandi mostre a New York Picasso nel 1939 pure in quell'anno mi sembra anche la Guernica è stato esposto alla Valentine Dudensing Gallery una grande mostra di Miró nel 1941 organizzata da James Johnson Sweeney quello che abbiamo visto prima Clay mi sembra nel 40 sempre nel Museum of Modern Art e poi importante è stata la mostra di Kandinsky l'anno dopo la sua morte lui muore nel 44 nel 45 una mostra commemorativa al Museo di Solomon Guggenheim eppure Pollock che ha lavorato per qualche settimana al Museo Solomon Guggenheim conosceva benissimo le opere si suppone di Kandinsky in quell'occasione allora pure la presenza quindi la presenza delle opere di Peggy nella galleria visibile in questo strano ambiente ha aiutato un ambiente già molto consapevole dell'arte contemporane parlavo di MoMA che ha fatto grandi mostre sempre del 36 in particolare due mostre del cubismo e del surrealismo ma anche la collezione di Albert Gallatin al New York University eppure anche il Museo di Solomon Guggenheim hanno tre luoghi per vedere l'arte contemporanea ma quello più bello quello più divertente era quello di Peggy ecco una piccola opera qui in mostra che secondo me subisce ricorda uno dei più grandi quadri di Kandinsky grandi nel senso di qualità la pittura con bordo bianco quel bordo bianco che è importante nella storia dello sviluppo dell'astrazione essendo mi sembra la prima volta che un neutrale indistinguibile sfondo bianco diventa lo sfondo lo spazio per le cose astratte quel piccolo guazzo qui in sala secondo me ha subito e i tempi sono giusti circa 1946 quindi poco dopo la mostra a Guggenheim e il catalogo di quella mostra è ancora oggi nella biblioteca di Pollock a Long Island nel suo piccolo raccolto di libri non dico che è una biblioteca quindi Pollock nell'altro suo grande quadro che si chiama Maschio e Femina è stato influenzato da questo quadro che lui poteva vedere da Peggy l'atelier di Picasso oggi a Venezia e sono girato a Motherwell perché Motherwell ha lasciato detto che l'opera più importante per i suoi primi anni a New York erano tutti gli spazi bianchi proprio in questo studio di Picasso che lui ha visto da Peggy quindi indico che il mecenetismo suo degli artisti a Motherwell ha dato il suo primo personale a Motherwell lei ha stimolato a Motherwell di usare la tecnica di collage che poi ha continuato a fare per il resto della sua vita addirittura faremo fra un anno una mostra dedicata ai collage di Motherwell che nascono con uno stimolo di Peggy ma in questo caso anche in generale la capacità di gestire forme in grandi spazi bianchi proviene dalla sua conoscenza dell'opera di Picasso presso la Galleria di Peggy addirittura Barbara Rose nei miei primi anni al museo mi ha perseguitato finché prestevamo un'opera molto fragile di Miro a Texas perché facevo una mostra chiamata Miro e de Kooning e volevo convincere tutto il mondo che le donne selvagge brutale tormentate di de Kooning nascono con la donna seduta di Miro che lui poteva vedere alla Galleria di Peggy è un'opera che abbiamo eccezionalmente prestato faccio un po' di comunicazione adesso alla mostra di Vercelli che apre domani Miro, Calder e Mondrian eccezionalmente abbiamo prestato tutte e tre le nostre opere di Miro a quella mostra Peggy conosceva de Kooning poteva dare a lui una mostra ma non era mai pronto arrivava con dei quadri poi timido si è ritirato poteva avere il suo primo personale da Peggy sono quasi sicuro che nella mostra di Miro alla fine del 41 a MoMA Sweeney aveva scelto questa grande opera e l'ho messo perché l'ho visto il lunedì scorso ed è un'opera incredibile del 25 addirittura ma il più grande il più azzardato di tutte le sue serie di panture poesie quadri poetici del 25 ed è incredibile come lui anticipa l'arte americana degli anni 40 e quindi quando gli americani prendono qualcosa dal surrealismo prendono più da Miro che dagli altri Miro che di surrealismo era un po' marginale Breton lo voleva sempre a un certo punto ha detto che era il più surrealista di tutti era più adatto al surrealismo degli anni 20 ma poi quando il surrealismo diventa tutto spettacolo è onirico con Magritte Dalì e Delvaux eccetera Miro era immaginato in qualche modo perché rimane con questa forte tendenza di astrazione però ritengo che Rothko non poteva dipingere un'opera così senza una conoscenza di Miro hanno una composizione simile cioè uno sfondo davanti a cui galleggiano le cose cose organiche cose simboli senza nome senza simboli non codificabili Miro a sua volta ha preso questo da Paul Clay quindi anche nel momento negli anni 40 in cui gli americani si strappano dalla tradizione dell'avanguardia europea devono moltissimo ad un a certe cose specialmente quegli elementi più da composizione più da tecnica da astrazione dal surrealismo e non come dico quel componente onirico esemplare Basiotis ho messo il quadro in alto a destra solo perché qui in mostra è nostro è classico perché lui parte non sapendo cosa bene cosa dipingere parte con quadri che non prendono bene una forma a un certo punto come in questo usa il cubismo quelle dure righe nere architettoniche per dare struttura all'opera e questa opera era nella sua prima personale all'Art of the Central 44 fra l'altro anche lui era sempre in difficoltà non era pronto per un mostro personale non è che questi artisti avevano centinaia di quadri magazinati per le sue risposte dovevano produrre e Peggy e Jimmy Ernst molto amico di Basiotis ospiti di casa addirittura andavano due o tre volte da lui allora sei pronto no no ho questo blocco non riesco a dipingere ho un crisi eccetera finalmente spinto dell'opportunità di fare una mostra personale con Peggy con un anno di ritardo lui fa la prima mostra e parte la sua carriera quello che volevo indicare mettendo un nostro altro nostro Miro di Venezia è come Basioti stesso usa una specie di surrealismo organico esattamente come Miro praticavano ogni tanto questo automatismo automatismo significa mettersi insieme e cercare di fare le cose scritte dipinte disegni in modo automatico conoscete probabilmente l'idea nasce come una tecnica letteraria negli anni venti con l'origine del surrealismo per Breton l'automatismo era un modo di far scatenare di aprire l'inconscio in senso freudiano invece qualcosa cambia l'automatismo cambia nel suo uso degli artisti negli anni 40 quello che chiamavano non automatismo psichico ma automatismo plastico e Basiotis parla in questo senso usa l'automatismo non per svelare il suo inconscio sui problemi con la mamma chissà cosa invece come una tecnica per iniziare per getting started dipinge e poi man mano che si va avanti le cose cominciano a cadere nel quadro cominciano a individuare forme eccetera era un modo di trovarsi con un'immagine totalmente originale passando per la casualità ma con l'intelligenza e l'occhio e l'intuizione artistica lavorando su quelle casualità e Basiotis produce bellissimi quadri prima di morire giovane mi sembra negli anni 60 quadri grandi anche come questo capolavoro al Metropolitan questa storia di un'arte americana che cerca di dimenticare l'arte europea di creare qualcosa totalmente nuovo è particolarmente vero per Gottlieb Gottlieb forse il più vecchio più precoce il primo ad avere negli anni 20 mi sembra 30 una sua personale ad una galleria anche lui impara da Paul Clay perché quel modo a sinistra l'incanto marino di avere una superficie dietro davanti al quale galleggiano simboli è effettivamente una forma di immagine presa da Paul Clay per lui leggendo Jung più che Freud voleva sfruttare lo simbolo il simbolo in modo che diventa riflesso dell'inconscio collettivo the collective unconscious la teoria di Jung che in tutti gli uomini attraverso quasi una specie di DNA un intreccio biologico c'è un'invisibile connessione fra tutti gli uomini sulla pianeta che è il loro inconscio collettivo e secondo Gottlieb e suo amico Mark Rothko nei primi anni 40 in cerca di un nuovo soggetto adatto ai tempi duri tempi orrendi della guerra della seconda guerra mondiale cercavano uno stile adatto ai tempi il simbolo del mito e il mito erano per loro il nuovo soggetto il mito possibilmente tragico inciso un antipositivo che non ho però vedendo adesso non ricordavo che abbiamo prestato l'opera di Clifford Still l'opera di Clifford Still è stato interpretato quello che mostro qui come la leggenda di Persephone è difficile capire però effettivamente quella donna quella creatura nera con il lungo collo potrebbe essere la madre di Persephone che cerca la sua figlia come si chiama Demeter come si chiama sì Demeter grazie che è stato portato via evidentemente da Plutone comunque la leggenda di Persephone aveva un particolare significato per Clifford Still che è cresciuta nel nord ovest di America durante gli anni trenta quando anni e anni di carestia in cui le vendemmie non mi viene ma comunque di fame è un disastro per tutte le fattorie del nord il cosiddetto Dust Bowl di John Steinbeck lui ha vissuto queste cose quindi per lui la leggenda del Persephone che causa o sua mamma che causa la sospensione della crescita delle piante aveva molto significato è tragico è senza tempo che è esattamente la frase che Mark Rothko usa come il giusto soggetto per l'arte negli anni 40 quindi quel Clifford Still è assolutamente paradigmatico della tendenza degli artisti americani in questo periodo questo quadro di Gottlieb che fa parte di un genere che lui si chiamava pictograph pictografie pictographie pictographs avevano questo reticolato che decentra la composizione probabilmente preso da Mondrian quindi Mondrian e Clay ho citato già ma seguendo proprio Jung i simboli in quanto sono simboli non hanno un significato specifico è giusto secondo lui che non hanno che sono puramente poetiche che non essendo non c'è un rebus non c'è un modo di lettura di questi simboli e questo era importante per lui quindi rifiuta di lasciarci dire questo significa quello e la storia è questo come invece ho fatto con il Jamais di Clifford Still oggi in mostra ho messo quello adesso soltanto perché sono molto contento da un anno quello appartiene alla collezione Peggy Guggenheim ed è un bellissimo quadro in questo caso il mito è quello degli indiani americani e gli indiani che mettevano sulle loro tende piccoli oggetti fatti da piume da conchiglie da varie cose che sono i cosiddetti spirit catchers acchiappa spiriti o acchiappa sogni e quindi questi oggetti sono tipici della cultura degli indiani senza più di tanto una mitologia attorno comunque cose legate ad una vita spirituale degli indiani Peggy esponeva tutte queste persone e qualche volta ci troviamo davanti artisti meno conosciuti ormai e volevo particolarmente vantare questo straordinario giovane Richard Pussett Dott lui era molto precoce a differenza di Pollock e di altri Gottlieb per esempio o Basiotis che erano in cerca di un soggetto sapevano che c'era qualcosa nel mondo invisibile che veniva rappresentato ma non sapevano che cosa era e usavano tecniche surrealistiche per arrivare a individuare questo invece Pussett Dott sapeva fin dall'inizio che la vita dello spirito la vita invisibile dell'anima era il suo soggetto e comincia a farlo già fin dagli anni 30 dipinge in modo assolutamente originale con incredibili spessori di colore e questi spessori corrispondono anche alle spessori del concio o del corpo o qualcosa cioè c'è un'interiorità dovuta a questa archeologia di superfici nelle sue opere che è assolutamente incredibile e dipinge in modo anti-astetico immaginiamo che da lì era il più famoso surrealista a New York in questo periodo dipinge così era totalmente originale ma per il futuro dell'arte americana quello che è interessante è l'opera in alto a destra Sinfonia numero uno il trascendentale è considerato il primo opera su tela di scala murale nella tradizione americana lui ha raccontato ad un storico dell'arte Robert Hobbes che quando dipingeva questo Mark Rothko arrivava nello studio e diceva ma come mai dipinge così non venderà mai un quadro grande così e soffoca lo studio è inventibile sei scemo a dipingere così poi figuriamo Rothko sviluppa proprio la sua carriera dagli anni 50 e poi su grandi telleri magari in serie però è stato pioniere questo push at art è interessante che lui lo fa con assolutamente assoluto disprezzo per il mercato infatti nel 51 lascia New York va a dipingere nella contea nello stato di New York nella campagna e esce dalla scena new yorkese che significa che non è stato in qualche modo adottato dal governo americano quando negli anni 50 promuoveva la nuova arte americana nel mondo e quindi se lui è escluso in qualche modo dalla squadra A dell'espressionistio strato americano e purmente questo fatto biografico che lui di gruppi di movimenti se ne fregava ma era originale in modo anche prima di Pollock su diversi fronti e vi invito a ricordare questo atomo un mondo unico che infatti è una relazione alla prima bomba atomica esplosa ma non è del tutto negativo il mondo unico l'atmo espresso in questo modo suggerisce quel legame che c'è fra tutta l'esistenza tutta la natura dovuto alla micro scienza cioè agli atmi nelle scienze nucleari Pussetart è stato dato una mostra personale non la prima da Peggy nel 1947 aveva già avuto nel 1941 ma in quell'occasione nel 1942 il grande quadro in alto adesso era troppo grande per la piccola galleria il Willard Gallery e Peggy ha sposto per la prima volta al pubblico quel murale oggi cioè almeno una volta ho visto che questo iniziava la sezione di arte americana primo quadro al Metropolitan un altro poco sconosciuto anche qui faccio un po' di pubblicità per il nostro museo perché giugno prossimo faremo una mostra di Charles Selega pressoché sconosciuto muore poco fa e per anni era l'unico artista vivente che aveva avuto una mostra personale già nel 1945 quando era mi sembra aveva 19 anni Charles Selega lui è interessante perché proprio mentre artisti come Pollock e altri Rothko Gottlieb cominciavano a fine anni 40 a fare quadri grandi grandi scalo morale lui diventa sempre più piccolo infatti il quadro giù a destra che si vede anche nella fotografia di lui nella galleria di Peggy è fra le sue opere più grandi e sono contento che anche quello avrà a Venezia prima o poi l'estate questo estate lo esponiamo assieme a queste altre opere in alto a destra il paesaggio cerebrale apparteneva a Peggy ed è la prima opera che Charles Selega ha usato in cui ha usato l'automatismo plastico cioè questo modo di usare la casualità in cui la pittura si forma sulla tela per poi costruire in questo caso questo senso molto biologico viscera cellule ossa anche qui la metafora dell'interno della nostra biologia per trovare lì il nostro inconscio e quel inconscio collettivo promosso da Jung e se proprio in questo periodo è stato pubblicato un saggio in quella rivista surrealista The View quello di cui era il regista quel pugile di Charles Henry Ford non era fatto pugile era tutt'altro comunque quello che è spasso sangue a casa di Peggy questo articolo diceva che nel mondo solo 16% di tutto quello che è visibile di tutta la natura è visibile scusami se mi ho espresso male 16% di tutto quello che è attorno a noi solo è visibile quindi ci sono 84% del mondo che non è visibile scatta questo un fascino per la quarta dimensione che non è altro in qualche modo che quello che non vediamo quello è oltre la terza che in qualsiasi modo uno cerca di definire però è quello che non si vede e quindi l'uso dell'arte astratta per raffigurare quello che non si vede è assolutamente coerente e aveva questa idea Charles Selig è continuata per tutta la vita si vede un cambio perché quello giù a sinistra un po' viola è quando lui dipingeva un po' da Paul Klee era giovanissimo e poi comincia per tutta la sua vita queste strane curiose cose biologiche addirittura quel quadro Sentinella giù a destra lui ha fatto più superficie un po' alla Pusset Art poi li ha tolti per riscoprire quello che aveva dipinto prima un atto che si equipare alla memoria perché si ritrova quello che c'era nel passato alterato però degli eventi che sono intromessi fra quando uno ha dipinto la prima superficie e quando si riscopre letteralmente sgraffiando dalla superficie il quadro infatti è una superficie molto magra e non lo era all'inizio quindi è emblematico dello stato della pittura americana negli anni 40 eppure Selig dipingendo piccolo non si unisce al carro degli espressionisti a strati americani perché Pollock nel 47 comincia a dipingere così e sono opere straordinarie e il suo processo con cui è dipinto questi quadri richiama quella notte nel 43 quando riesce finalmente a fare il murale per la casa di Peggy quindi un paio di famosissime immagini di Hans Namath questi sono interessanti lui ha fatto centinaia di fotografie di Pollock nel suo piccolo studio piccolo piccolo e ognuno che visita quello studio è stupifatto dal fatto che le opere sembrano più grandi del pavimento comunque Hans Namath fotografa lui nel 50 ma il fatto è che Peggy non era più a New York ha deciso nel 47 di chiudere la sua galleria di tornare in Europa che amava e quindi in qualche modo esce dalla festa prima che è finita Pollock diventa famosissimo nel 49 quando Life Magazine pubblica un articolo con la domanda Jackson Pollock è il più grande pittore vivente americano e grazie a questo è un self-fulfilling prophecy perché diventa subito il più famoso pittore americano e tutta la storia di Pollock prosegue fino al suo quasi suicidio nel 56 però Peggy era già in Europa e l'ultimo capitolo di questo discorso è un po' quello che fa Peggy per Pollock una volta tornato in Europa e innanzitutto a Venezia però per concludere la parte new yorkese del discorso questo anche qui dopo Peggy questa famosa fotografia degli irascibili noto così perché erano tutti furibondi perché il Metropolitan Museum of Art ha fatto una mostra di giovani arti americana sistematicamente escludendo tutti quanti e la cosa curiosa è che questo quadro ho parlato di diversi dei pittori c'è Rothko Motherwell Still Gottlieb proprio in fondo lì con i baffi accanto a De Kooning con il suo profilo Aquilino più a sinistra con uno sguardo abbastanza irrascibile proprio Pusset Dart e accanto a lui il tipo un po' Bogart di Basiotis quindi un bellissimo gruppo famoso l'immagine di Pollock tutto casuale disinvolto in centro quindi Peggy è sostenuto esposto in qualche modo non tutti ma quasi tutti di questi pittori quando questa fotografia viene pubblicata nel 51 il gruppo viene diventa famoso e un anno dopo adottano il nome espressionisti e strati americani quindi Peggy arriva alla festa in ritardo perché come dicevo New York era molto colto molto attrezzato per conoscere l'avanguardia europea però poi per 4 o 5 anni partecipa con il suo mecenatismo e con la presenza della sua galleria in questa straordinaria allestimento di Frederick Kisler contribuisce al processo non dico che lei ha fatto tutto però è un elemento che non va dimenticato in questo reticolo ineffabile di forze che hanno creato questa avanguardia la prima avanguardia americana di rilievo internazionale quindi arriviamo a Venezia nel 48 Peggy è invitata a esporre la sua collezione da Palocchini è stato Giuseppe Santomaso a suggerirlo Peggy un po' imbarazzata lì ospita Luigi Ainaudi non sapeva cosa dire nemmeno Ainaudi a lei e dice per fortuna è arrivato il fotografo ha fotografato tutti sotto con l'Alexandre Colda era nel padiglione greco della Biennale 48 ed era un fatto straordinario perché ancora una volta la mera presenza della sua collezione è stato fondamentale ricordiamo che la Biennale comincia nel 48 comincia ovviamente nel 1795 per la Biennale che noi conosciamo oggi quello dedicato con la sua missione a documentare l'arte di oggi l'arte contemporanea comincia nel 48 a tutti gli effetti le prime Biennale del dopoguerra erano tutti mirati a riprendere le avanguardie che sono stati persi fra le guerre quindi nel 54 per esempio il surrealismo Matisse vince in premio Hans vince in premio le prime Biennale di Palocchini erano tutti incentrati sulle avanguardie Peggy documenta tutti con la sua padiglione nel primo Biennale del dopoguerra 48 e c'erano anche le opere americane quindi Gorky Basiotis quel gol che è lì in sala Still Pollock esposti per la prima volta in Europa presso questa galleria anche perché mi sembra in quell'occasione c'era qualcuno nel padiglione americano ma è aperto tardi quindi per tre o quattro settimane Peggy anticipa tutti con questi americani in Europa Giulio Carlo Argan era chiesto di scrivere un piccolo testo per il catalogo sulla collezione di Peggy e Peggy detto che non ha capito niente era molto dismessivo di quello che è riuscito era duro cioè scrivere tutte le avanguardie in 300 parole non era un compito facile ma lui è riuscito bene a pasticciarlo e ha ignorato totalmente l'arte americana forse perché non c'erano ancora le grandi opere di dripping che veramente fanno novità sembravano forse opere ancora legate alle avanguardie europee simpatico su risata con le avventure a destra nel 49 compra il suo palazzo non compiuto ma questo non è una una storia di Peggy a Venezia oppure quella è la sua gondola e la casa come doveva essere in alto nel 50 fa veramente una mostra di Pollock cioè qualche opera c'era nel 48 nel 50 al museo Corer mi sembra ecco guarda per poche settimane ma con addirittura 10.000 festatori espone tutta la sua collezione di 23 opere e non so se riuscite a leggere ma sono opere che ormai 11 sono ancora a Venezia 12 sono donati a diversi musei del mondo due erano già donate da lei al Steadlake Museum di Amsterdam grazie all'amicizia con Per Sandberg e questo indica un'altra cosa lei prendeva come sua missione l'idea di proporre Pollock ai musei del mondo a Tel Aviv a Roma addirittura a Stoccolma ad Amsterdam e diversi musei americani musei perché ancora era considerato un artista risibile se quella è una parola un artista Peggy esponendo questo era considerato una pazza ereditiere americana arrivata a Venezia chissà perché e addirittura Giuseppe Macchiore grande critico d'arte amico di Peggy si vergognava e non è apparso all'inaugurazione perché non so pensavano che erano pure folie questi quadri ed erano e qui finalmente c'erano i quadri che abbiamo visto prima Alchimia e Foresti Incantate addirittura come vedete l'ultimo numero 16 del 49 quindi un'opera veramente della piena maturità di Jackson Pollock e quindi la conoscenza di Pollock la presenza della collezione di Peggy a Venezia e scommetto che nei Tancredi nei Bacci avrebbero dipinto così se non c'era la mostra di Pollock del 50 la prima mostra personale di Pollock in Europa che hanno visto eppure la presenza fissa nella sua casa dal 51 in poi delle opere di Pollock quel sbaramento di Vedova per esempio io ritengo che il più grande opera del suo primo anno di maturità prima faceva quadri un po' geometriche rettilineari cubisti costipati erano brutti quadri molto derivati Lorenzo probabilmente contesterà questo rispetto alla libertà con cui lui comincia a dipingere un'esplosione di gestualità secondo me nasce da una conoscenza della nuova arte americana che poteva avere in prima persona dalla collezione di Peggy i due protetti in assoluto di Peggy che cercava di promuovere come aveva promosso Pollock erano Baci e Tancredi e concludo con questa diapositiva che potrebbe sembrare poco significativo Peggy che visita la Biennale del 64 sappiamo che è la Biennale del 64 per quella specie di tubatura in alto a destra probabilmente conoscete benissimo la storia di quel particolare Biennale l'anno in cui pop art è esploso sulla scena europea Alan Solomon commissario del padiglione americano che sia il padiglione americano è abbastanza ovvio grazie alla bandiera Alan Solomon arriva a Venezia convinto che Reichenberg doveva vincere il gran premio però il presidente della Biennale decide all'ultimo momento che chi non era esposto nei giardini della Biennale non era candidato per il premio invece Solomon aveva rassicurazioni diverse prima infatti Rauschenberg era esposto altrove nell'ex consulato americano quindi quella tubatura in alto si spiega perché ha costruito velocemente una specie di tettoia per portare tre o quattro di opere di Rauschenberg da spore nei giardini e guarda caso vince Rauschenberg il premio allora il punto di questa cosa è che Peggy che visita il padiglione di Rauschenberg Rauschenberg non è proprio pop art ma però lo consideriamo probabilmente allora era confuso neo dada pop art probabilmente visto come la stessa cosa e graziosamente accolto da Luigi Gui ministro delle istruzioni allora ho scoperto che muore solo due anni fa a Padova e dietro quel figura sorridente un po' come quel spettatore nelle visitazioni di Pontormo e il sindaco di Venezia Favoretto Fisca quindi c'è anche una storia qui perché Favoretto Fisca doveva essere il sindaco di aver convinto Peggy di donare la sua collezione alla città di Venezia così non ne ho riuscito a fare sicuramente lui di arte capiva niente però aveva amici come Zampetti e Parocco che volevano convincere Peggy di donare la sua collezione in questo periodo alla città non a caso nel 62 Peggy ricevevano cittadinanza onoraria di Venezia proprio con questo scopo occulto poco occulto di convincerle di legarsi alle città però il morale di questa storia è che Peggy non compra niente non compra Oldenburg né Dine né Stella né gli altri Chamberlain che erano esposti nel Consolato né Johns né Rauschenberg perché per lei Popart era l'antitesi e lo è in termini semplici all'espressionismo strato americano cioè tutto quello che lei ha sostenuto negli anni 40 e anche 50 l'espressionismo strato americano era messo alle spalle era storicizzato da questo evento dalla salita di Popart come il nuovo arte americano un'altra donna Iliana Sonnebend che ha promosso questa mostra di Rauschenberg assieme a Alan Solomon infatti a un certo punto quando apre la sua galleria con Castelli mette anche lei alle spalle l'arte antica l'arte della vecchia generazione cioè l'espressionismo strato americano per partire con Johns e Rauschenberg è un strano passaggio di non so cosa come negli atleti cioè da Peggy a Eliana Sonnebend in qualche modo due donne e poi Sonnebend diventa la grande campionista stafetta grazie sono ben riparti però c'era anche un altro motivo per cui Peggy si ritira dall'acquisizione non del tutto ma comunque dall'avanguardia non solo sul ritiro nel 1947 da New York però i prezzi allora con Rauschenberg alle stelle a New York nel 1962 sua mostra al Jewish Museum di New York un grande il primo evento chic della scena artistica a New York e lui comincia a chiedere 100.000 dollari 150.000 dollari o qualcosa e Peggy non capiva niente perché la più grande cifra che ha mai pagato lei per un'opera d'arte era il suo Picasso sulla spiaggia per 10.000 dollari e quindi per lei il valore dell'arte era completamente fuori senso e possiamo capire perché pensiamo noi alla stessa cosa oggi con Giacometti Picasso e Pollock alle stelle per lei i valori dell'arte erano comunque irraggiungibili con la sua modesta capacità di spendere e comunque per lei che aveva questo senso un po' era ebrea ma puritanica del valore delle cose non voleva spendere quindi per due motivi questo segna questo momento alla biennale segna la conclusione della carriera di Peggy come promotrice dell'arte americana e con quello finisco grazie per l'ascolto grazie moltissimo è stata una interessantissima esposizione e devo dire credo che tutti possono condividere anche molto divertente non so forse salutiamo allora di nuovo se c'è qualche domanda proprio non so se Marco Berti ce la consente una buonasera buonasera c'è dunque può sembra che Bollo che abbia quando ha cominciato a fare la pittura colata aveva in mente molto degli indiani per la pittura di sabbia invece c'è poi un'altra interpretazione che sembra che volevo chiedere questo secondo questa interpretazione questa narrazione che lui faceva murale del quale non era soddisfatto scendendo dalla scaletta le colature per terra del suo colore e lì improvvisamente si accorse che era più interessante queste colature in terra che il murale allora non so se questa cosa sia vera in più volevo sapere se riguarda questo famoso murale che ha fatto per la Google e se può essere attendibile questo perché mi pare fra le due punti d'orientamento da cui lui è partito sul murale di Peggy che cosa? se questo ha esperienza sua di notare le colature della pittura che stava facendo su un murale lei la conosce questa interpretazione e se riguarda il murale che aveva fatto la Guggenheim no da un tanto esame del murale di Peggy di Polk che ha fatto per Peggy sappiamo che lui si ha più o meno disteso tutta la composizione in un arco di probabilmente di 8-10 ore poi qualche giorno dopo è ritornato a ritoccare a sistemare un po' la nascita del suo tecnica di faccolare la pittura era molto più è molto graduale sappiamo che già nel 36 in un laboratorio sperimentale con Sequeros il messicano tutti i ragazzi sperimentavano con cose con le tecniche più inaudite di creare quadri sappiamo mi sembra che nel 40-41 assieme a Basiotis e altri facevano sciogliere dischi che creavano questa cosa viscosa nera che asciugava subito sappiamo che Hoffman Hans Hoffman ha sperimentato con il dripping anche una donna presto che sconosciuta anche a lei Peggy ha dato una mostra Janet Sobel ha fatto il dripping quindi chi ha fatto il dripping per primo e ancora non capito bene anche Pussettart ha usato questa tecnica era nell'aria e certi quadri sono forse guardiani del segreto oggi a San Francisco anche Pollock stesso all'inizio ha usato come una specie di ultima aggiunta alla composizione spruzzando un po' di tele quindi non mi sembra che sia sarebbe troppo bello a seguito di un incidente una casualità se è quello che diceva era l'ipotesi è un lungo processo della sperimentazione tecnica che ha la base non solo il murale il pittore dei murali messicani ma innanzitutto l'automatismo surrealista ecco e sappiamo che a un certo punto lui rinuncia quel quadro un ultimo inedito guardiani del segreto che Peggy ha venduto alla direttrice del San Francisco Museum of Art questa altra bravissima donna Grace McCann Molly c'è una corrispondenza fra di loro e McCann Molly scrive a Peggy dicendo non ce la faccio i garanti non mi permettono di spendere 850 dollari su questo quadro possiamo fare 500 dice Peggy va bene 500 hanno avuto quel quadro che oggi vale 50 milioni non so quanto per 500 dollari grazie prego grazie 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 grazie